Il colonnello Cirtoli lascia l'incarico di comandante provinciale dei carabinieri, ai saluti anche Papale e Spina, rispettivamente comandanti delle compagnie di Fano e Pesaro. Matteo Renzi ospite alla festa dell'unità a Pesaro. Oltre 1500 persone hanno assistito al faccia a faccia con l'ex sindaco Matteo Ricci. Opere compensative Adriatic Link, l'amministrazione torna ad incontrare Carrara e Metauriglia per condividere le modalità con cui dirottare le risorse. Collegioni ex Udc annuncia le dimissioni anche da delegato provinciale per il comparto alla sicurezza. Non nascondo la delusione, ha detto, per la scarsa considerazione politica, essendo il secondo tra i più votati in lista alle ultime amministrative. Terzo settore, a Fano iscritte, 159 organizzazioni. Tommassini rilancia l'importanza della coprogettazione con l'amministrazione comunale. Un biglietto unico per visitare tutti i musei e i siti archeologici della Flaminia, insieme ad un coordinamento delle visite di tutti i beni culturali sparsi per la città. Queste le novità all'esame dell'assessorato alla cultura del comune di Fano per il 2025. Ben ritrovati a questa edizione del telegiornale di Fano TV. Occhio alla notizia. Il colonnello Cirtoli lascia l'incarico di comandante provinciale dei Carabinieri. Ai saluti anche Papale e Spina, rispettivamente comandanti di Fano e Pesaro. Oggi i tre hanno incontrato gli organi di informazione. Sentiamo. E' tempo dei saluti per il comandante provinciale dei Carabinieri Gianluigi Cirtoli, a salutare anche Guerrino Roberto Spina e Maximiliano Papale, rispettivamente comandanti delle compagnie carabinieri di Pesaro e Fano. I tre oggi hanno incontrato la stampa in vista del trasferimento a nuova destinazione. Sono stati anni importanti, ha detto il comandante provinciale Cirtoli. Abbiamo affrontato diversi eventi, dai femminicidi agli omicidi, senza dimenticare l'alluvione. Grandi interventi, ma anche piccoli, come quelli svolti ogni giorno a Fano e Pesaro. Il colonnello Gianluigi Cirtoli si trasferirà a Bologna. Al suo posto, in arrivo da Vibo Valencia, il colonnello Alessandro Corda. Purtroppo di omicidi ne sono accaduti, di femminicidi ne sono accaduti. Abbiamo avuto anche degli eventi alluvionali che hanno caratterizzato la nostra provincia, la nostra regione e anche le regioni con termini. Quindi in tutte quelle situazioni, logicamente chi ha operato è operato al meglio, perché abbiamo risolto tutti gli omicidi che ci sono stati, non si risolvono da soli questi omicidi. E anche gli interventi che ci sono stati nel corso di questi due eventi alluvionali significano o rendono necessario il fatto e rendono esplicito il fatto che comunque bisogna essere sempre pronti nel quotidiano anche quando ci sono le cose ordinarie. Anche lì bisogna sempre restare attenti. Importante la collaborazione con i cittadini, sottolinea l'ex comandante della compagnia di Fano, Maximiliano Papale. Quest'ultimo si trasferirà a Cesena. Al suo posto il tenente Giuseppe, esposito da Falconara Marittima. Sul territorio fanese è l'operazione più importante, quella che ricorderà con più piacere? Ne abbiamo fatte diverse, quindi dallo spazio di stupefacenti, con dinamiche, siamo arrivati anche nell'Interland napoletano, abbiamo collaborato con il comando provinciale nel femminicidio di Anastasia. Insomma sono tanti per il momento dell'alluvione, dove è stata salvata in particolare una vita umana a Cantiano, dei carabinieri della stazione. Con le operazioni di servizio ne abbiamo fatte diverse, dove abbiamo anche certificato delle colleganze con regioni, in particolare del Meridione, parlo in particolare della Campania, stroncando anche dei traffici di stupefacenti importanti. Quindi una in particolare non me ne viene. Lo ripeto, è l'impegno costante, l'impegno quotidiano che poi porta alla fine i risultati che è il totale, insomma, che è importante. Per il comandante della Compagnia Carabinieri di Pesaro, Roberto Spina, c'è gioia per aver reso tranquillo e sereno il territorio pesarese. È stato grande l'impegno messo in campo contro il traffico di droga e i reati di Codice Rosso. Per il tenente colonnello Spina, futuro a Reggio Calabria, in arrivo a Pesaro da Frosinone, il tenente colonnello Maurizio Petrarca. Problematiche ne abbiamo avute, tante se sono messe in relazione al numero dei militari e alla popolazione che abbiamo. Chiaramente è un territorio ancora fra i migliori d'Italia, io ritengo. Però quello è stato il nostro impegno, preservarlo. E quindi ci ha visto impegnati, spesso anche a discapito di interessi personali e familiari. I carabinieri nella notte tra martedì e mercoledì hanno arrestato un giovane ritenuto responsabile del furto in un appartamento ad Urbania. L'operazione ha avuto inizio quando i militari hanno notato due giovani in atteggiamento sospetto a girarsi per le vie del centro. Alla vista dei carabinieri uno si è allontanato, mentre l'altro è stato fermato per un controllo. Poco dopo è giunta al 112 una segnalazione di furto in abitazione, dove un cittadino aveva sorpreso un uomo intento a scappare dopo aver sottratto alcuni oggetti. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i militari hanno collegato l'episodio al ragazzo che si era dato alla fuga poco prima. Rintracciato e fermato è stato identificato come il presunto responsabile del colpo. L'arresto è stato convalidato ieri dal Tribunale di Urbino. Il centro natatorio di Fano oggi è rimasto chiuso a causa della rottura di un giunto dell'impianto idrico che ha provocato la caduta di alcuni pannelli in cartongesso posti nel soffitto della cucina del bar e l'allagamento della stanza, come vedete da questa immagine. Il fatto sarebbe accaduto la notte scorsa e questa mattina è stata subito contattata la ditta per ripristinare il guasto. Per motivi di sicurezza i gestori hanno deciso di chiudere l'impianto che riaprirà domani per il nuoto libero. Per rimettere in funzione la zona bar invece potrebbe essere necessario attendere una settimana. A Pesaro è iniziata la festa dell'unità. Ieri sul palco di Baia Flaminia si è svolto il tanto atteso confronto tra Matteo Ricci e Matteo Renzi. Vediamo allora come è andata nel servizio di Marco Lonigro. Il tanto atteso faccia a faccia tra Matteo Renzi e Matteo Ricci si è svolto ieri sera a Baia Flaminia sul palco allestito per la festa dell'unità del Partito Democratico. Il leader di Italia Viva, arrivato con largo anticipo rispetto all'inizio della serata, è stato accolto dall'ex sindaco Matteo Ricci. Prima una pericena in spiaggia e poi il confronto sul palco, presenti alla serata oltre 1500 persone. Sono qui perché penso che il centro-sinistra debba ripartire. Dopo due anni Matteo Renzi è tornato alla festa dell'unità. Si è parlato dell'ex leader che potrebbe riavvicinarsi da alleato del Partito Democratico e proprio a Pesaro ieri il campo largo ha fatto un ulteriore passo in avanti. Sono qui perché il centro-sinistra deve ripartire e perché farei di tutto per far cadere il governo Meloni ha detto Renzi. Voglio stare in una coalizione di centro-sinistra guida PD, ammette il leader di Italia Viva. Io penso che matematicamente si vinca mettendosi assieme. L'altra volta nel 2022 la Meloni non aveva la maggioranza del paese. Ha avuto la maggioranza dei seggi perché siamo andati divisi. Ora non riapriamo quella pagina lì se no non ne usciamo. Ma se ci mettiamo d'accordo su alcune cose fondamentali si vince nelle Marche e si vince a livello nazionale. È chiaro che ciascuno di noi deve fare uno sforzo, noi per primi, per trovare i punti di accordo. E non è facile, ma è l'unica strada. Un'alleanza, dice Renzi, che potrebbe costruirsi su temi comuni come il referendum sull'autonomia e gli stipendi. Prima ancora che il referendum sull'autonomia, secondo me c'è un tema che si chiama ceto medio. Gli stipendi, la gente non ce la fa più arrivare alla fine del mese. C'è un problema di spese per chi va a scuola, per chi va a lavorare, per chi era abituato con uno stipendio normale a vivere che oggi invece fa fatica. Dieci anni fa noi facemmo gli 80 euro, è un altro mondo. Oggi gli 80 euro non basterebbero con l'inflazione che c'è. Ci vorrebbe almeno 160 euro per il ceto medio, la partita è quella, ceto medio. Dunque a Pesaro prove di campo largo anche in vista delle prossime elezioni regionali. Nelle marche il Partito Democratico punta alla rivincita ed è concreta l'ipotesi di Ricci candidato governatore. Per le regionali nelle marche l'ex sindaco di Pesaro ha le idee chiare e tende la mano all'ex governatore Gian Mario Spacca. Ma speriamo, speriamo di aver dato il nostro contributo, volevamo aprire questa discussione, dobbiamo costruire un nuovo centro-sinistra intorno al Partito Democratico e per fare questo serve anche un partito di centro liberale. Questa apertura di Renzi è importante, ovviamente ci sono tanti mal di pancia, tante ambiguità che dobbiamo sciogliere, però è un aspetto importante. Non basti taglia viva, come ho detto a Renzi, serve una forza politica nuova al centro, però Renzi non ha la forza, il consenso probabilmente per guidarla, ma ha l'intelligenza politica per favorire la nascita. E quella di ieri è stata l'occasione per chiedere un commento a Matteo Ricci in merito all'inchiesta dei fondi pubblici a Pesaro. L'ex primo cittadino, la nostra domanda, ha risposto così. A Pesaro si parla di fondi pubblici, un tema caldissimo, una polemica grande anche per il centro-destra, qual è la sua posizione su questo? C'è una commissione che sta analizzando tutti gli atti, mi sembra che tutti gli atti siano fatti bene da parte dei dirigenti, poi se ci saranno invece responsabilità legali sarà la procura a vederlo, però è giusto che il comune garantisca massima trasparenza, anche perché sono stati fatti tanti lavori, tante iniziative, tanti eventi, tutti realizzati, ed è giusto che tutti controllano come siano stati spesi quei soldi. Le mie dimissioni dall'Udc hanno determinato anche la cessazione della delega provinciale per la rappresentanza del comparto sicurezza. Ad annunciarlo è Stefano Pollegioni che precisa Si tratta di un incarico che ho svolto con grande determinazione, promuovendo e ottenendo il riconoscimento della rappresentanza sindacale delle Forze dell'Ordine in un tavolo regionale. Sto considerando, ha aggiunto Pollegioni, alcune possibilità, tra cui quella di riprendere le attività con la lista civica Nuova Fano. Non posso nascondere, ha concluso nella nota, la mia delusione per la scarsa considerazione politica essendo il secondo tra i più votati in lista Forza Italia Udc e noi moderati ed il ventiduesimo di 119 candidati ricevuta in questa tornata elettorale per la quale mi sono impegnato molto, volendo fortemente l'elezione del sindaco Serfili. Il reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Pesaro è stato scelto come reparto pilota in Italia per l'impianto della nuova linea di placche per il trattamento delle fratture osse sviluppata da un'importante azienda multinazionale americana, leader nel settore di protesi ortopediche. La struttura, come ricordato dal direttore dell'AST Pesaro Urbino, Alberto Carelli, è il primo reparto nelle marche per il numero di interventi ed è costantemente impegnato nel trattamento di fratture di elevata complessità. Per la prima volta in Italia, aggiunto il dottore Luca Memè, direttore del reparto, abbiamo eseguito interventi con due innovative placche anatomiche in acciaio studiate per migliorare il trattamento delle fratture del ginocchio e di quelle che si verificano attorno alle protesi dell'anca. I risultati del trattamento verranno presentati al prossimo congresso nazionale di ortopedia e traumatologia che si svolgerà ad ottobre a Riccione. E adesso vi mostriamo queste immagini girate da un nostro reporter di strada al parco di Sant'Orso. È un parco con tanti attrezzi nuovi, ha sottolineato, sempre frequentato da bambini e centri estivi. Ritengo sia inammissibile che i bimbi debbano giocare in queste condizioni. Tra l'altro non è una situazione isolata perché, in quanto educatore, mi è capitato più volte di portarci i ragazzi dei vari centri ed è sempre perennemente in queste condizioni. Secondo le stime del fanese Maurizio Tomassini, che ha consultato il registro unico nazionale del terzo settore, sono 159 le organizzazioni iscritte nel comune di Fano. Il sociologo e membro della direzione nazionale ACLI rilancia la necessità di una coprogettazione con l'amministrazione comunale. Abbiamo fatto come ACLI, ACLI provinciale di Pesaro, una indagine sul terzo settore a Fano. Il terzo settore, ai sensi della riforma, ha un registro nazionale e nel registro nazionale nel comune di Fano sono 159 le organizzazioni del terzo settore iscritte. Questo ci dà un po' una dimensione di una città, lo sapevamo già, molto attenta ai temi dei processi che riguardano non solo il sociale, ma anche l'ambiente, ma anche il benessere animale, ma anche la cultura. Questi temi sono dentro questo contesto e le associazioni iscritte, divise per categoria, organizzazioni di volontariato, organizzazioni di promozione sociale, soggetti che hanno accreditato nell'iscrizione all'albo il diritto di avere, a sensi della riforma, i benefici e anche gli obblighi previsti dalla riforma. Voi che cosa chiedete all'amministrazione? Che cosa vorreste? Un'amministrazione condivisa? Il principio dell'amministrazione condivisa deriva da una sentenza dalla Corte Costituzionale, la 131 del 2020, che in maniera rivoluzionaria pone in essere un rapporto alla pari tra pubblica amministrazione e enti del terzo settore. Questa sentenza poi ha avuto una declinazione all'interno della riforma con dei principi che l'amministrazione deve poi portare a compimento, quello della coprogrammazione e quello della coprogettazione con gli enti del terzo settore. Tutto questo per il bene comune? Sì, tutto questo per il bene comune perché le associazioni iscritte a vario titolo all'interno del RUNTS, del registro, hanno un fine statutario che ha la valenza di intervenire in quei settori direttamente con capacità e competenze rispetto ai ruoli che le stesse associazioni hanno. Parliamo di numeri? I numeri poi li abbiamo rilevati in maniera molto precisa rispetto alle varie organizzazioni iscritte, cioè le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, le fondazioni e gli altri enti del terzo settore. L'amministrazione comunale di Fano torna ad incontrare Carrara e Metauriglia per discutere delle opere compensative legate all'Adriatic Link. Vogliamo che i cittadini, ha dichiarato il sindaco, siano protagonisti delle scelte che riguardano il futuro di Fano. Il nostro intento è quello di condividere le modalità con cui dirottare le risorse ascoltando le istanze e le necessità attraverso una partecipazione attiva. Una volta recepite le esigenze di tutti, aggiunto il vice sindaco Manocchi, andremo ad inserire le richieste all'interno del protocollo d'intesa. Gli appuntamenti con i cittadini sono fissati per martedì 3 settembre alle 20.45 a Casa Bethlehem a Carrara e giovedì 5 settembre alle 20.45 al Circolo Albatros di Metauriglia. E torniamo a parlare dei mancati pagamenti agli autisti da parte della ditta Paolo Scoppio che gestisce tramite gara il servizio di trasporto scolastico con scuolabus per il Comune di Fano perché l'amministrazione comunale, in risposta al comunicato della Filt CGL, sottolinea che si è subito attivata per formalizzare l'atto relativo al procedimento di surroga. Questo intervento è finalizzato a garantire direttamente ai lavoratori il pagamento delle retribuzioni dovute per la loro attività, con particolare riferimento al TFR, e alla mensilità di giugno 2024. Ci spostiamo ora a Vallefoglia dove è in arrivo l'approvazione della Giunta Comunale per i nuovi asfalti con un investimento di 850 mila euro. Gli interventi riguarderanno diverse strade e vie di tutto il territorio per rendere più sicura la circolazione di automobilisti, ciclisti e pedoni. Dopo l'approvazione, ha precisato il sindaco Palmira Ucchielli, si procederà alla gara d'appalto e all'individuazione della ditta esecutrice dei lavori. L'estate non è ancora terminata, ma in un primo attendibile bilancio sul fronte del turismo culturale si può tracciare tenendo conto di cosa si può migliorare sul fronte della fruizione dei beni culturali. Ancora oggi San Pietro in Valle è chiusa, San Francesco si può visitare soltanto nell'occasione di spettacoli e l'orario dei musei pubblici e privati non sono coordinati, le zone archeologiche non sono facilmente accessibili. A questo riguardo l'assessore alla cultura Lucia Tarsi ha annunciato un cambio di strategia. Sentiamo. Siamo alla fine ormai della stagione turistica, una stagione collegata ovviamente con le iniziative culturali che sono parte predominante anche dell'attrazione turistica. Può farci un consuntivo di questi due mesi di alta stagione? Sì, sono stati due mesi in cui ho preso conoscenza della situazione che ho in qualche modo ereditato dall'amministrazione precedente. Un'organizzazione dell'estate che sicuramente ha manifestato qualche criticità e sulla quale poi dovremo lavorare per la prossima stagione estiva. Ed è sicuramente molto interessante la possibilità di utilizzare questi beni come richiamo per i turisti. Ci sono dunque delle novità per il prossimo anno? C'è una programmazione diversa anche per quanto riguarda gli eventi? Stiamo già lavorando insieme alla Giunta la possibilità l'anno prossimo di rendere più facile la fruizione dei nostri beni. Ci sono delle realtà come per esempio San Pietro in Valle, come anche San Francesco e sono molto gettonate, molto richieste dai turisti che vengono a Fano apposta per vederle. E poi si trovano le porte chiuse. Quindi dobbiamo lavorare perché nel corso di qualche mese si riesca a rendere fruibile l'accesso a questi grandi beni, a queste grandi risorse in modo per la prossima stagione estiva da poter studiare un'organizzazione all'interno della città tra il sistema museale, i beni monumentali, le chiese, ricordiamo anche la nostra Santa Maria Nuova, Fano Sotterranea che è anche questa quando i visitatori accedono alla Fano Sotterranea che sia sotto la Mediateca Montadario che sia sotto Sant'Agostino rimangono stupiti per la bellezza. Ecco, dobbiamo fare in modo che i nostri beni monumentali siano aperti al pubblico durante tutta la settimana e possibilmente negli orari più facili in cui i turisti accedono a queste strutture. Insisterete, Assessore, sulla valorizzazione della Fano Romana che in questi giorni è salita insistentemente alla ribalta? Quando si dice Fano Romana si deve intendere un sistema molto complesso perché Fano Romana è distribuito su tutta la città ed è molto ricca. Fano Romana ha una serie di sedi, di locazioni a partire da anche, basti pensare insomma, dal museo della Via Flaminia che dà l'inizio ad un percorso di analisi, ricerca dei reperti romani che sono lungo tutta la Via Flaminia. Quindi, cosa pensiamo? Pensiamo innanzitutto di valorizzare al meglio il sistema museale fanese mettendoci anche in collaborazione con i musei privati, il museo di Ocesano e il museo della Fondazione. Parallelamente stiamo lavorando alla possibilità di rendere fruibile con un biglietto unico, una bigliettazione unica per chi viene da fuori, di tutti i beni dell'antica Roma che sono lungo tutta la Via Flaminia. Socializzazione, condivisione e collaborazione tra enti sono stati al centro della visita a Pesaro degli anziani di questa calda terza età, manifestazione giunta alla 34esima edizione. Il gruppo, partito da Fano con l'assessore Lucia Tarsi, ha raggiunto il capoluogo trovando la calorosa accoglienza dell'amministrazione locale rappresentata dall'assessore Pandolfi. La visita è proseguita con la guida turistica di Manuela Palmucci, nei punti più affascinanti della città, svelando misteri e raccontando storie inedite. In serata, evento conviviale di chiusura a cura dell'Associazione Culturale Non Solo Donna. Ed è tutto per questa edizione del Telegiornale, l'appuntamento torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Grazie per aver guardato il video.